eccoci buonasera a tutte e a tutti e grazie per essere qui in questa presentazione virtuale di uno dei nostri ultimi titoli, il libro è Fake People di Maurizio Tesconi e Viola Bacchini e oggi avremo con noi Viola, uno dei due autori e ci accompagna Gianluca Dotti in questa scoperta dei temi lanciati dal libro Gianluca è giornalista scientifico e divulgatore, collabora tra gli altri con Wired Italia, Radio 24, Startup Italia, Forb Italia insomma oggi scienza, come avrete capito insomma un profilo assolutamente ricco e dentro i temi scientifici Viola Bacchini è esperta di comunicazione della scienza e della tecnologia se non sbaglio ha diverse collaborazioni con università e istituti di ricerca ed è naturalmente autrice nonché redattrice intanto ci terrei davvero oltre a ringraziare i nostri due ospiti ci terrei davvero a ringraziare anche tutti i partecipanti a questo dibattito, a questa presentazione che partecipano in questa nuova formula totalmente virtuale ad una manifestazione editoriale a cui noi teniamo moltissimo che è Book Pride ci terrei anche a ringraziare gli organizzatori di Book Pride che in un contesto così complesso sono riusciti ad organizzare questa formula totalmente innovativa che prevede appunto un'interazione unicamente online è chiaro che sia loro che noi avremmo preferito una, diciamo, un vederci tutti quanti dal vivo un'interazione più tradizionale nonostante i temi del libro siano molto, come dire, molto tecnologici però sono contento comunque che si sono siamo tutti noi contenti di questa manifestazione perché ci dà l'occasione di continuare a ragionare insieme di temi importanti ci dà l'occasione anche, diciamo, di riuscire ad evadere anche che non è tanto questo, diciamo, non è il caso forse dei libri di saggistica però per tutti gli editori che in questo momento stanno presentando o hanno presentato dei titoli di narrativa ecco, questa di Book Pride comunque rappresenta una finestra anche di evasione, approfondimento insomma, tutte tematiche e tutte anche modalità che ci permettono di essere resilienti in questo momento così complicato per, diciamo, il paese e per tutti quanti in realtà purtroppo due, veramente due parole velocissime il libro Fake People è un libro a cui noi teniamo moltissimo perché si va ad inserire in un filone del nostro catalogo che è uno dei filoni, diciamo, più rappresentativi e identificanti di codice in questo caso sono particolarmente contento siamo particolarmente contenti che gli autori siano due giovani, diciamo, ricercatori e divulgatori della scienza italiana anche perché da molti anni stiamo investendo molto assieme agli autori italiani nel cercare di far crescere come dire, l'italianità del nostro catalogo non per questioni di, diciamo, di sovranismo intellettuale ben lungi da noi quanto per invece andare incontro a quella che è la missione di codice fin dagli inizi ovvero quella di promuovere un discorso, diciamo, di divulgazione scientifica che si avvicini al grande pubblico credo che, come dire, l'accogliere in maniera sempre più grande giovani autori e per giovani intendo giovani dal punto di vista proprio di dell'esordio letterario autori italiani nel nostro catalogo sia davvero una delle più belle manifestazioni, diciamo, della riuscita di questo processo quindi davvero grazie Viola per il lavoro e grazie a tutti, diciamo, tutti i tuoi colleghi che in questi anni si sono avvicinati a noi e al nostro pubblico io davvero vi lascio e ringrazio ancora Gianluca per la sua squisita disponibilità e insomma adesso vi lascio parlare del libro e dei temi del libro grazie ancora grazie mille grazie dell'introduzione grazie anche dell'invito mi fa molto piacere di essere qui con Viola e anche insomma di poter partecipare a Book Pride 2020 e allora Viola io comincerei proprio in medias res come si dice cioè parlando proprio del libro a partire dal titolo no? perché avete scelto come titolo Fake People e inutile negarlo ormai quando si sente come prima parola fake la seconda viene quasi spontaneo che sia news no? con il significato di bufala anche se in realtà c'è una leggera sfumatura di senso tra una bufala e una fake news per quanto riguarda l'intenzionalità di quello che si sta facendo ma voi avete scelto di titolare questo libro Fake People che cosa si intende? sì allora il tema centrale del libro sono appunto le false identità le false identità che si trovano in rete abbiamo giocato ovviamente sul titolo con le fake news perché si sente tantissimo parlare ormai di fake news è entrato proprio nel linguaggio comune questo termine però diciamo si parla ancora poco invece di persone false più che di notizie invece internet è pieno di persone false insomma uno studio uscito una settimana fa finalmente è riuscito a dare una percentuale e dice che circa il 10% dei profili che si trovano su Twitter sono falsi e insomma poi vedremo cosa vuol dire ma che possono anche a seconda dei temi di cui si parla si può trovare a parlare di quel tema anche il 70% dei profili falsi quindi si capisce che il tema insomma è importante e va conosciuto appunto il libro si chiama Fake People storie di social bot e bugiardi digitali proprio perché noi distinguiamo questi due tipi di identità false cioè le persone bugiardi digitali cioè degli account falsi dove dietro allo schermo c'è una persona che però si spaccia per qualcun altro questi insomma possiamo avere tantissimi casi da per esempio persone che si spacciano per falsi clienti di uno store online e scrivono recensioni per esempio sui prodotti che non hanno mai acquistato e queste sono persone e poi ci sono questi bot bot è l'abbreviazione di robot e sono proprio degli algoritmi automatici che stanno dietro a un profilo social su internet quindi cosa succede che noi magari no vediamo un sito che rilancia una notizia sotto tutta una serie di commenti vediamo qualcuno che commenta noi magari non siamo d'accordo ci mettiamo ci discutiamo ci accaloriamo però in realtà magari dietro non è detto che ci sono persone in carne e ossa ma magari appunto c'è un algoritmo c'è un software automatico addestrato per esempio a una serie di compiti a intrattenere conversazioni online sconosciuti a mettere mi piace a ripostare alcuni messaggi rispetto a altri e così via insomma gli scopi possono essere più vari a seconda degli ambiti in cui sono utilizzati ora nel libro raccontiamo un po' insomma facciamo una carrellata dei vari utilizzi dalla finanza alla politica al mondo degli influencer e del social media marketing e così via ecco Viola mi piacerebbe poi in questa chiacchierata arrivare un po' a toccare tutti i vari ambiti in cui diciamo si applicano i bot se così si può dire ti vorrei prima però chiedere una cosa per inquadrare anche un po' da un punto di vista temporale cioè se parliamo di fake people nel senso di persone in carne e ossa che si fingono qualcun altro questo diciamo è vecchio come internet nel senso che lo si può fare da sempre la potenzialità invece tecnologica di fare dei bot quindi degli automatismi quanto è recente e quanto sta ingrandendosi al passare del tempo allora diciamo i primi bot sono stati scoperti intorno al 2010 quindi ormai sono dieci anni sono dieci anni di studi sui bot come diciamo da parte dei ricercatori come Maurizio Tesconi che è il mio coautore nel libro Maurizio è un ricercatore e di lavoro fa questo cioè è un cacciatore di bot quindi cerca questi profili falsi automatici con varie tecniche insomma mette a punto tecniche innovazioni per trovare questi bot quindi ci sono da dieci anni però diciamo il fenomeno è proprio esploso nel 2017 2018 quindi si parla di un fenomeno piuttosto recente la prima volta che diciamo è salito alla ribalta anche dei media più mainstream è stato durante le elezioni americane del 2016 perché lì per la prima volta insomma si è scoperto che c'era un'organizzazione ora in quel caso con sede a San Pietroburgo che diciamo questo edificio di quattro piani enorme dove queste persone la mattina timbravano il cartellino e stavano otto ore di fronte allo schermo lavorando per diciamo inquinare il dibattito social sulle elezioni americane c'era uno scopo molto chiaro insomma questo è venuto fuori poi dalle varie inchieste diciamo non informatiche ma sia giornalistiche che poi anche dell'FBI eccetera è venuto fuori che c'era proprio l'intento di affossare il candidato Hillary Clinton e favorire Trump quindi qui cosa si faceva c'era questo esercito di bot che rituitavano messaggi favorevoli a Trump quindi questo diciamo è stato un po' il primo caso che è venuto fuori sulla cronaca certo poi questo ovviamente è un tema che adesso è di caldissimissima attualità visto che mancano pochi giorni alle elezioni ovviamente nel libro non c'è il racconto di questa elezione perché ovviamente deve ancora avvenire però appunto raccontate molto bene quali erano le dinamiche che stavano dietro già quattro anni fa che forse per i tempi di internet un'epoca fa diciamo che però segna il primo vero fenomeno in cui i bot sono stati utilizzati non a caso forse la politica è anche stato il campo in cui per primo c'è stato un uso più di massa diciamo di questi strumenti visti anche l'importanza degli interessi in gioco mi veniva in mente prima hai citato il cacciatore di bot che è un job title fantastico forse il più bello che che abbia sentito ultimamente e ti volevo chiedere voi avete ovviamente sviscerato tanti aspetti del mondo dei fake people c'è una parte interessante del libro in cui sostanzialmente intervistate un hacker che vi dà un po' di dritte no su come fare poi ovviamente ci sono cose eticamente accettabili altre cose eticamente un po' più deprecabili però insomma quali sono poi un po' i segreti che sono emersi da questa intervista allora questo questo hacker diciamo un hacker buono quindi è un hacker che ha collaborato collabora con le forze dell'ordine quindi insomma lui crea false identità diciamo per scopi buoni si spera lui appunto è esperto è esperto in questa creazione di profili falsi perché lo fa per lavoro quindi ci ha raccontato un po' i vari step quindi per per costruire allora costruirsi un'identità falsa prova di bomba è difficilissimo diciamo ovviamente bisogna connettersi con una connessione anonima e qui ci sono insomma vari metodi poi il problema è che nel momento in cui io voglio aprirmi un nuovo account per esempio su Instagram o su Facebook il social network mi chiede un indirizzo mail a cui inviarmi appunto che io userò per registrarmi ora quindi quale indirizzo mail l'uso ovviamente quello personale no ovviamente non il mio quindi ecco che si arriva alla vera cosa difficile cioè aprirsi un indirizzo mail credibile per esempio con Gmail senza che si possa risalire all'identità di chi l'ha aperto perché per aprirsi per esempio una casella Gmail serve un numero di cellulare a cui farsi arrivare il codice di attivazione ma in Italia per attivare una sim è necessario mostrare un documento di identità quindi insomma qui si va un pochino più nei trucchi da hacker che poi però in qualche modo riescono a ottenere numeri di telefono eccetera poi diciamo che anche una volta che si è riusciti a creare questo profilo falso poi il problema è anche renderlo credibile loro parlano proprio di coltivazione no se fosse qualcosa una piantina una piantina che cresce quindi questo profilo deve diventare credibile quindi si fa mettere mi piace a delle pagine di persone per esempio famose no perché tutti noi seguiamo almeno uno sportivo uno o due politici alcuni attori quindi mettere mi piace a queste persone che poi si ritrovano tutti i profili falsi che le seguono senza che in realtà non li abbiano mai voluti e e poi interagire chiedere amicizia ad altre persone quindi qui un trucco per esempio è mettere la foto di una bella ragazza perché le persone sono più propense a dare l'amicizia e e mettere una foto profilo credibile ma anche che non esista perché se magari io poi vedo qualcuno con la mia foto del profilo lo segnalo e anche qui ci sono per esempio dei siti che costruiscono da zero attraverso l'intelligenza artificiale generano dei volti che non esistono cioè non è che prendono un pezzettino da una faccia un pezzettino da un Frankenstein da niente generano delle persone che non esistono e per esempio queste foto vengono usate per generare delle false identità questa cosa qui è stata fatta appunto non è nel libro perché è successo adesso in occasione delle ultime presidenze di queste presidenziali americane dove due profili falsi con foto create con tecniche di intelligenza artificiale quindi due persone che non esistevano si spacciavano per caporedattori di un giornale online e andavano e chiedevano se ci fosse qualche giornalista interessato a scrivere per il loro sito pagavano benissimo quindi un sacco di giornalisti ci sono cascati anche persone esperte e questo fa riflettere perché se ci cascano giornalisti è un problema vuol dire che insomma è veramente difficile accorgersene perché insomma giornalisti sono quelli che per lavoro verificano le fonti l'attendibilità di chi è di fronte eccetera queste due persone offrivano dei soldi per scrivere degli articoli che criticassero Biden da sinistra lì diciamo l'obiettivo era il target erano gli elettori di sinistra che non avrebbero mai votato Trump per non fargli votare neanche Biden quindi certo quindi c'è un meccanismo estremamente complesso diciamo dietro mi viene anche molto in mente che appunto l'hacking come dicevi tu ha una parte tecnica sicuramente importante fondamentale per poterlo portare a termine ma poi c'è tutta una parte spesso di ingegneria sociale diciamo quindi anche di tutto ciò che ha a che fare con la percezione delle persone l'arte dell'inganno che è qualche cosa di molto sofisticato quindi non basta essere esperti di tecnologia ma bisogna essere molto esperti anche di dinamiche sociali umane io partirei visto che insomma hai citato già le questioni per esempio Stati Uniti e Russia da un pezzettino veramente 6-7 righe che ci sono nel primo capitolo del libro perché penso che introducano a uno dei grandissimi temi del presente e del prossimo futuro voi scrivete i pericoli legati agli account fake sono reali perché non sempre a strumenti tanto potenti corrispondono controoffensive efficaci chi ha mezzi e conoscenze come l'hacker che abbiamo intervistato in questo libro può costruirsi un'identità fasulla davvero difficile da rintracciare anche per la polizia postale anche la lotta agli account automatici maligni non è così semplice perché ogni volta che gli esperti trovano una tecnica efficace per scoprirli i creatori di bot cercano di affinare i loro algoritmi per renderli invisibili la guerra è aperta mi ha colpito anche la chiusura di questo passaggio cioè la guerra è aperta si parla già un po' da alcuni anni c'è anche una newsletter famosa che si chiama guerre di rete no perché ormai il tema dei contrasti dei conflitti che possono generarsi online non è solo una questione digitale ma è una questione anche economica e geopolitica a oggi a che punto siamo di questa guerra cioè è veramente una guerra in corso stiamo solo scaldando i motori stiamo stiamo scaldando i motori ma diciamo la situazione non sembra buona allora diciamo qui il problema è che man mano che questi bot diventano più complicati le persone da sole no ci cascano i giornalisti cioè le persone non riescono a distinguerli è impossibile per una persona perché sono fatti molto bene anzi è proprio un esperimento del CNR di Pisa che dice che una persona riconosce solo un bot su quattro cioè una persona riconosce i suoi simili però poi tende a dire che sono umani anche i bot quindi questo è proprio stato fatto proprio su persone sono stati fatti vedere tutta una serie di profili un po' falsi un po' e quindi diciamo chi ci può aiutare qui ci aiutano i ricercatori cioè ci deve aiutare qualcuno che abbia un'expertise adatta a diciamo a bonificare un po' la rete a ripulire la rete da tutto questo inquinamento che c'è di falso ora chi lo può fare lo può fare un pochino la ricerca appunto come Maurizio Tesconi e il suo gruppo ma lo dovrebbero fare per esempio anche i governi e però il problema è che adesso è soprattutto in mano alle piattaforme stesse cioè questo è il grosso problema quindi le piattaforme sono delle aziende private e sono insomma per noi sono tutte sul suolo straniero perché in Europa praticamente non abbiamo senza praticamente non abbiamo social network quindi ecco che per esempio questi ultimi questi due profili di cui parlavo questi falsi caporedattori dei giornali cioè è uscito un report dalla stessa facebook che ha avuto una segnalazione dall'fbi ma diciamo non si sa in che contesto sono stati trovati se ne sono stati trovati altri ma manca un po' il controllo poi da parte delle persone dei governi perché questi comunque sono temi d'attualità manca il controllo poi su tutte queste tutti questi problemi il controllo diciamo è in mano a queste multinazionali che sono un po' in conflitto di interessi perché il valore del social network dipende un po' anche dal numero di utenti che ha quindi da una parte è ovvio che una piattaforma ha tutto l'interesse a dire oggi ho eliminato come ha fatto facebook recentemente ha annunciato abbiamo eliminato 5 miliardi di profili falsi dalla piattaforma quindi all'interesse anche del social stesso a farsi vedere che controlla che si ripulisce però è anche vero che meno utenti ha e meno vale quindi diciamo il fatto che il controllo sia tutto in mano a loro è un po' strano oltre appunto al discorso geopolitico al fatto che questi social allora c'è il tiktok diciamo cinese che sta prendendo piede però gli altri sono tutti statunitensi certo sì quindi il tema come dicevi tu insomma della regolamentazione di tutte queste piattaforme è un tema assolutamente non risolto soprattutto se si pensa che sono dinamiche internazionali quindi poi effettivamente in ogni paese se noi magari possiamo parlare come un'Unione Europea ma ha bisogno di in qualche modo regolamentare quello che ci succede sopra mi riaggancio a questo perché un altro dei grandi temi legati alla gestione dei profili sui social e non solo è quello dell'anonimato nel senso che questa è una grande battaglia a volte anche un po' ideologica nel senso che l'anonimato ha dei pro e dei contro perché naturalmente entro certi limiti per esempio per la libertà di espressione può essere un valore aggiunto se però si parla di rintracciabilità per esempio di chi commette dei reati può diventare un down come si dice da questo punto di vista per esempio voi nel libro citate anche l'esempio di una piattaforma che si chiama 4chan poi ce ne sono anche altre se non sbaglio 8chan è tutto insomma una famiglia e qui che cosa sta succedendo cioè dalla vostra indagine dal vostro studio che cosa avete fatto emergere? che diciamo che la situazione è molto complessa ed è difficile dare una risposta cioè appunto la storia di 4chan è molto istruttiva a questo proposito cioè questa è una piattaforma che è stata creata agli inizi degli anni 2000 insomma siamo nel 2003 da questo ragazzo molto giovane che la crea tra l'altro è lì che è nato il movimento Anonymous crea questa questa piattaforma dove ognuno ha un ha un nickname quindi non ci si presenta con il proprio nome ma siamo Anonymous 1 Anonymous 2 e così via e si commentano i manga giapponesi insomma era all'inizio gli interessi di questo ragazzo che ha fondato la piattaforma negli anni ci si sono iscritte sempre più persone la piattaforma è diventata molto famosa e all'inizio sembrava una cosa buonissima questo anonimato infatti per esempio su questa piattaforma venivano organizzate delle manifestazioni antirazziste insomma sembrava che finalmente grazie a internet le persone si ritrovassero e portassero avanti buoni propositi di civiltà e così via poi però cosa è successo che negli anni invece è sempre stata presa più d'assalto da persone per esempio dell'estrema destra o di movimenti razzisti sessisti e così via e è diventato un po' sorribile poi alla fine questa piattaforma lo stesso Chris Paul che è questo creatore all'inizio insomma la difendeva ovviamente per la sua piattaforma con questi editoriali fiume ci siamo riletti su un medium dove la difendeva diceva sì alla fine è buona perché comunque tutti possono confrontarsi sia una cosa positiva però lui stesso poi nel 2015 se ne è tirato fuori e è andato a lavorare per Google perché era diventato era diventato un po' è tuttora un posto abbastanza invivibile quindi questa è una storia istruttiva perché si vede che l'anonimato può essere buono ma può essere anche cattivo non c'è una risposta univoca il problema è che diciamo anche tecnicamente anche per motivi etici non si può imporre alle persone di registrarsi con la carta di identità sui social no perché poi alla fine ci sono i paesi per esempio dove non c'è tutta questa libertà che c'è in Italia e quindi dove può essere invece un diritto poter andare su un social network e esprimere le proprie idee senza dire chi siamo e quindi non temere ritorzioni per esempio poi c'è anche per esempio ci sono i blog dove le ragazzine per esempio raccontano di aver abortito cioè ci sono tutta una serie di mondi dove invece la privacy delle persone è giusto che venga tutelata quindi l'ideale sarebbe che le persone fossero educate a un uso consapevole della rete per cui anche se non dico chi sono però non è che mi comporto in un modo orribile perché ho una maschera di fronte e non dico chi sono ecco questo sarebbe l'ideale esisteva la netiquette quella serie di regole è una cosa molto antiquata molto anni 90 però insomma abbiamo intervistato un giurista che ce l'ha ritirata fuori e ci ha detto effettivamente andrebbe rispolverata quella e fin dalle scuole educare ragazzi è un uso consapevole di internet certo sono molto d'accordo nel senso che la parte di educazione del fare cultura su questi temi forse è l'unico vero antidoto ai problemi che ci sono nel senso che pensare di risolverli magari con una legge è qualche cosa di improponibile poi all'atto pratico mentre creare consapevolezza su questi temi come fa il vostro libro come fanno i corsi nelle scuole come fanno insomma tante iniziative è probabilmente la strada migliore forse ancora non abbastanza battuta vista la pervasività poi del mondo di internet e dei social nelle nostre giornate e visto che abbiamo parlato di anonimato faccio un mini visticcio di parole perché vorrei portarti verso Anonymous che c'entra un po' con l'anonimato nel senso che è un gruppo organizzato che non si che non dichiara la propria identità ma è legato poi a tutta una serie di azioni di carattere internazionale recentemente è stato riportato agli onori delle cronache a seguito del in Francia dei fatti collegati alla decapitazione poi di quel professore che a sua volta si ricollega ai fatti di Charlie Hebdo di qualche anno fa e Anonymous è un tema che comunque rimane a volte se ne parla un po' di più a volte un po' di meno nel mondo dell'hacking a volte hacking buono a volte hacking un po' più discutibile ecco qual è a oggi la situazione di questo gruppo effettivamente è un unico gruppo è qualcosa di più articolato è qualcosa di più articolato quindi è difficile dire qual è la situazione ora diciamo per far parte di Anonymous bisogna essere attivisti cioè hacker e attivisti detto questo chiunque abbia un po' di competenze informatiche le voglia mettere a disposizione di una casa può autodichiararsi Anonymous quindi ora io no perché non ho quelle competenze però magari Maurizio il mio coautore potrebbe fare rubare i dati di qualche associazione per esempio che qualche istituzione che a lui non piace e autodichiararsi Anonymous senza in realtà aver interagito con nessun altro quindi non c'è la certificazione di Anonymous quindi è un'autodichiarazione che fanno quindi non è un gruppo organizzato ora perché è quello che un po' appunto uno si immagina all'organizzazione Anonymous invece è un collettivo di attivisti che portano avanti le loro cause ora noi parliamo di quello che era successo appunto dopo il 2015 dopo la strage di Charlie Hebdo dove tutti questi hacker si erano messi d'accordo per provare a fare qualcosa contro il terrorismo islamico avevano chiuso dei server però diciamo anche lì sì avevano ottenuto dei risultati perché erano riusciti a chiudere degli account però è un po' rischioso perché magari rischi di chiudere degli account su cui la polizia sta indagando magari da infiltrata e mandare all'aria il lavoro di mesi della polizia non sai bene come muoverti anche perché un conto appunto è uno dice prendo di mira non so un ministero della Repubblica Italiana c'è un sito definito c'è un luogo ci sono delle persone invece prendere di mira un sedicente stato islamico dove ci sono persone sparse un po' in tutto il mondo insomma quindi che a loro volta è un'organizzazione non è così semplice quindi sì diciamo ha dato qualche frutto infatti anche gli giornali insomma titoloni anche un po' sensazionalistici no Godzilla contro King Kong era una lotta tra giganti però insomma sì e no insomma ha funzionato fino a un certo punto ok quindi sì non sono di sicuro da demonizzare ma neanche troppo da mitizzare quando si tratta poi dei risultati delle loro azioni senti Viola vorrei provare a portarti su un binario un po' diverso nel senso che finora ci siamo molto allacciati ai temi di attualità anche poi politiche di cronaca voi però nel libro affrontate anche il tema da un punto di vista più tecnologico scientifico ti leggo un altro passaggino veramente brevissimo perché voi scrivete in un paragrafo che tra l'altro avete titolato quattro chiacchiere con il bot e scrivete per essere davvero intelligente un bot deve agire e pensare come un umano al punto da essere indistinguibile da una persona in altre parole chi ci converte dovrebbe minimamente sospettare che dietro la tastiera si nasconde un algoritmo a meno che questo non lo dichiari espressamente ecco questo passaggio si ricollega tra le righe diciamo al famoso test di Turing quindi il fatto che un'intelligenza artificiale possa essere talmente evoluta da interagire con una persona senza che la persona stessa si accorga se è un'intelligenza umana oppure artificiale a oggi quanto siamo avanti in questo processo cioè la macchina di Turing è ancora qualche cosa di utopico o ci stiamo veramente avvicinando allora ancora non abbiamo risolto il nodo ancora non esiste la macchina indistinguibile dall'uomo però ci stiamo avvicinando ovviamente appunto la tecnologia evolve ora soprattutto grazie al machine learning cioè è questo metodo questa tecnica per cui la macchina viene addestrata cioè proprio come un bambino che fa tante volte una cosa finché non impara a farlo uno sportivo che allena tante volte un gesto finché non impara la stessa tecnica viene applicata anche alle macchine quindi per esempio io faccio vedere cento foto cento in realtà milioni di foto di un gatto a un computer gli dico questo è un gatto questo non è un gatto questo sì questo no questo no a un certo punto il computer va solo in automatico impara che sei un gatto senza che io programmatore sappia davvero come ragiona che poi alla fine è un po' anche il cervello umano per tanti versi è un mistero per i biologi quindi senza sapere anche poi precisamente come ragiona però ce la fa cioè impara come le persone quindi grazie a questa tecnica di apprendimento automatico si stanno facendo delle macchine sempre più simili all'uomo diciamo l'intelligenza umana è di due tipi c'è quella razionale quindi fare un calcolo per esempio e qui nessuno si sognerebbe mai di sfidare un computer fare un calcolo e poi c'è l'intelligenza quella intuitiva e qui per ora gli umani ancora vincono per ora diciamo perché poi pian piano stiamo insegnando anche alle macchine anche questa cosa qui anche a essere intuitive per ora ancora non ci siamo riusciti nel senso cioè tutti gli anni c'è un'olimpia dei chatbot cioè dove ci sono questi chatbot sono questi bot questi algoritmi che servono per intrattenere delle conversazioni online con gli utenti e quindi insomma chat come ti chiami dove sei e questo risponde cioè da cinque sei anni vince sempre lo stesso chatbot che è questa mitsuku che trovate online ci potete chattare anche voi e è impressionante nel senso che lei dichiara di essere ma sei umano no no sono una macchina sono fiera di esserlo però poi risponde a tono a tutte le domande è sempre puntuale effettivamente si vede che c'è stato un passo avanti importante nella tecnologia si perdono ancora le macchine appunto sull'intuizione cioè se io chiedo a mitsuku ma come la vedi la juve quest'anno per esempio che ha iniziato ora il campionato lei non sa rispondere perché questa è un'intuizione cioè se io lo chiedo a una persona che segue un minimo per esempio il calcio una risposta me la dà anche se sicuramente a livello di statistiche conosce molto meno di quello che potrebbe fare un algoritmo però si sbilancia e prova a dare una risposta questo ancora la macchina per ora non lo fa e la cosa affascinante è che si stanno gli informatici i ricercatori stanno cercando di insegnarglielo e stanno vedendo che più la macchina impara a essere intuitiva e più impara anche a sbagliare perché poi nell'intuizione c'è compreso anche l'errore che è un qualcosa che noi non ci aspettiamo dalla macchina cioè non ci aspettiamo che un computer sbagli perché siamo abituati che il computer fa qualcosa legato al mondo della razionalità invece man mano che creeremo delle macchine intelligenti quindi che ci assomigli cioè intelligenti inteso a livello umano cioè che assomigliano all'intelligenza umana avremo anche delle macchine e dei computer che sbaglieranno mi viene in mente visto che appunto raccontavi un po' quanto sta evolvendo anche in fretta grazie al machine learning l'esempio forse che abbiamo un po' tutti non sotto mano ma sotto orecchio degli assistenti vocali perché quando parliamo con Google Assistant piuttosto che Alexa Siri o Cortana o chi per loro effettivamente stanno facendo passi da gigante anche se come dicevi ancora qualche cosina rispetto a conversare con un umano di differenza c'è allo stesso tempo però questo è un po' un grande classico diciamo quando si discute di machine learning che siccome appunto è un processo in cui l'apprendimento viene affidato a un algoritmo che funziona con meccanismi anche un po' fuori dal controllo umano tutto dipende un po' dai dati che gli si danno in pasto quindi qui il grande tema è se noi addestriamo gli algoritmi tramite machine learning con dati che hanno già al loro interno delle storture potremmo generare qualche cosa che non è così bello e eticamente accettabile nel libro per esempio se non sbaglio citate l'esempio di un algoritmo diventato razzista in 24 ore magari raccontaci intanto questo esempio così lo capiamo meglio e poi quali sono le prospettive sì perché è proprio cioè funziona proprio molto bene secondo me la similitudine del bambino cioè anche il bambino impara vede degli esempi dagli adulti a forza di vedere esempi impara a fare qualcosa ora ovviamente a seconda degli esempi che si dà da vedere a un bambino quello impara in modo più o meno eticamente corretto e la stessa cosa è con i bot cioè questo era un esperimento questo TAI era un profilo automatico lanciato su Twitter dalla Microsoft nel 2015 insomma qualche anno fa il profilo viene messo online e Microsoft dice più ci parlate più diventa intelligente insomma quindi chiede agli utenti di parlare con questo con questo bot il problema è che appunto è come prendere un bambino metterlo in un bar pieno di adulti adulti buoni adulti poco raccomandabili e questo bambino cioè non ha filtri non ha cioè non ha capacità no perché è appena uscito da casa in quel caso dal laboratorio e ecco che arrivano tutti gli utenti diciamo troll che vogliono fare un dispetto vogliono rovinare l'esperimento e cominciano a insegnargli tutte delle frasi razziste cioè dopo 24 ore Microsoft è costretta a chiudere questo account perché questo account comincia a dire eh tipo odio le femministe Hitler non ha fatto qua così niente di sbagliato insomma quindi era proprio il caso di chiuderlo diciamo che ricreiamo il mondo talmente bene da portarci dentro anche tutte le le storture poi in quel caso appunto c'è stata anche una forzatura forse un po' volontaria da parte di qualche mascalzone ma anche in tanti altri contesti è un problema non banale no un altro esempio che si fa spesso è quello della dermatologia dove se insegniamo degli algoritmi a leggere la nostra pelle a capire quali sono le caratteristiche potremmo creare dei bias tra persone bianche e persone nere per esempio e banalmente l'algoritmo performa meglio su determinate persone rispetto ad altre proprio a proposito di addestramento c'è arrivata una domanda da chi ci sta seguendo in diretta che è riferita ai CAPTCHA quindi quei piccoli test che ci vengono sottoposti quando vogliamo farci riconoscere come umani qui la domanda è se è vero che i CAPTCHA servono per addestrare degli algoritmi quindi per fare machine learning oppure se in realtà si tratta solo di un test su di noi senza alcun secondo fine è un test su di noi però diciamo se un hacker volesse perché quelli servono appunto per evitare che degli algoritmi automatici vadano dentro al sito senza essere persone man mano che i CAPTCHA perché i CAPTCHA sono così complicati perché chi sviluppa questi algoritmi che vogliono aggirarli riesce a fare sempre più bravi e quindi qui c'è una guerra anche qui appunto i CAPTCHA non è che addestrano il machine learning però vengono usati da chi produce algoritmi da chi crea algoritmi per aggirarli per testarci algoritmi sempre più bravi a girare questi sistemi quello sì e infatti sono sempre più complessi anche per noi a volte esatto sì poi mi viene in mente qualche anno fa tutto si basava su riconoscere delle lettere magari un po' storte o sfocate adesso meno negli ultimi giorni mi capito di vedere i semafori gli attraversamenti l'altro giorno ne avevo uno in cui dovevo riconoscere dei parcheggi e non ce l'ho fatta a un certo punto mi sono arreso perché ormai gli algoritmi sono diventati bravi e le lettere sfocate le vedono cioè quello il punto diventano questa guerra appunto che si diceva prima certo allora Viola credo cominciamo ad avviarci verso la conclusione è veramente volata questa chiacchierata però c'è un altro grande tema che è emergente diciamo che è quello dei deepfake quindi i contenuti creati da intelligenze artificiali foto o video che sono fatti così bene che noi esseri umani non siamo in grado di distinguere se siano autentici o artefatti in questo momento i deepfake sono più una risorsa o un problema stanno diventando un problema nel senso che vabbè le persone noi ormai siamo abituati a dubitare per esempio di una foto sa che c'è photoshop e quindi una foto potrebbe essere falsa ritoccata invece non siamo ancora purtroppo abituati a pensare che un video o un audio possa essere falso se rispondiamo al telefono e sentiamo la voce di un nostro amico con l'accento la cadenza del nostro amico diamo per scontato che sia il nostro amico ecco diciamo in questo modo una segretaria di una grande azienda tedesca ha ricevuto la chiamata di quello che credeva fosse il suo capo e ha fatto un bonifico stellare su un conto di un truffatore quindi diciamo il problema c'è per fortuna per ora servono tecniche ancora sofisticate insomma mezzi importanti per produrre un audio deepfake o un video deepfake fatto bene però purtroppo sta diventando una cosa sempre più accessibile a tutti quindi è importante studiare anche tecniche per riconoscerli e smascherarli ecco il problema di chi dà la caccia ai falsi è che è sempre un passo indietro quindi poi quando chi studia anche le tecniche per riconoscere deepfake inizierà con la controoffensiva allora il problema sarà più marginale spero speriamo sì anche perché diciamo un rischio mi viene in mente da giornalista è quello che a un certo punto ci siano magari dichiarazioni di persone anche in audio o in video che sembrano autentiche poi in realtà non lo sono quindi c'è anche un discorso poi di orientare magari gli elettori da una parte dall'altra con contenuti artefat che è il next level delle fake news diciamo così allora viola io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata credo che il nostro tempo sia sostanzialmente esaurito però vorrei di nuovo ringraziare per l'invito anche mi ha fatto davvero molto molto piacere questa chiacchierata e quindi grazie mille a tutti grazie a tutti grazie viola grazie gianluca è stato davvero come dire una carrellata di di spunti e di stimoli estremamente interessanti e come insomma ci avete anche fatto vedere quelle che sono quelle che possono essere le implicazioni anche di applicazioni così come dire che utilizziamo in maniera anche molto inconsapevole molto spesso quindi davvero è stato molto interessante grazie mille di nuovo viola gianluca grazie al pubblico che ci ha seguiti e non mi resta che davvero augurarvi una buona serata e buona domenica grazie mille grazie e buona serata buona serata arrivederci